Grazie per la diretta, siamo qui in Val di Nonne e siamo pronti a dare la notizia che tutti aspettavamo, anche se ormai era il segreto di Pulcinella, perché tutti a Barletta sapevate già che Francesco Di Gennaro è un giocatore del Barletta. Abbiamo appena raccolto la sua prima dichiarazione in bianco-rosso. Sono felice di stare qui, di far parte di questa società, di questa squadra, che mi ha fortemente voluto e mi ha convinto subito con questo progetto che stanno attuando. Ecco Francesco, inutile negarlo, il tuo arrivo non è altro che una conferma delle ambizioni di questo gruppo, di questo sodalizio. Sì, penso che prima di me abbiamo fatto degli ottimi acquisti, vedo che la squadra si sta formando, ora dobbiamo formare un po' il gruppo perché ci conosciamo poco e dobbiamo allenarci sempre di più per arrivare a fine agosto per stare al top. Tu eri fortemente conteso fra Barletta e altre squadre, alcune delle quali anche pugliesi, cosa ti ha convinto poi a rivolgerti ai bianco-rossi? Mi ha convinto la serietà del direttore della società, poche parole, tanti fatti e questo è quello che mi ha convinto, senza andare a parlare tante volte, con 5 minuti di colloquio ci siamo messi d'accordo e mi è piaciuto il progetto. Così dunque Francesco Di Gennaro, io posso restituire la linea, ricordate il ritiro bianco-rosso e soprattutto il nostro profilo Facebook, ritiro bianco-rosso teleregione, che è sempre a vostra disposizione, vi restituisco la linea.